Ehi, mettiti così, però. Allora, però, se mi senti, di troppo, di toglie. L'Evangelio è stato venduto alcuni mesi fa al Bayern Monaco, con il fatto che sarebbe rimasto quest'ultimo anno. E poi, anche se era scadenza, i soldi avrebbero dati lo stesso al Borussia Dortmund. Quindi, il problema già è stato risolto alcuni mesi fa. Quindi tu puoi andare da Lewandowski quanto ti pare. E quello, sapendo che va a giocare nel Bayern Monaco e nel Guardiola, ma soprattutto che è stato fatto un accordo sia col giocatore che con il club, 4-5 mesi fa. Quindi è difficile che parliamo di nomi tanto per parlare.